Buonasera a tutti, vorrei anche esprimere il pensiero sul Green Pass e sul vaccino anti-Covid. Premetto, non sono nessuno e non ho la presunzione di sapere chi ha ragione, i Novax oppure i vaccinati. Tuttavia vorrei sottolineare un piccolo aspetto, quello che fino a prima del Covid ci siamo tutti quanti noi alcolizzati, ci siamo tutti quanti noi drogati, ci siamo tutti quanti noi ormonizzati e abbiamo fatto tutti noi sesso senza protezione. Quindi abbiamo bevuto alcol a gogo senza pensare agli effetti negativi che ci sarebbero stati sul fegato. Abbiamo fumato sigarette e ci siamo drogati senza pensare ai danni che il cervello e i pomoni avrebbero avuto. Abbiamo fatto sesso senza protezione, senza pensare alle malattie che ci sarebbero state trasmesse ai nostri organi intimi, sia quelli femminili sia quelli maschili. Quindi, ora voglio capire, per un vaccino contro il virus siamo diventati tutti virologi, tutti avvocati, tutti costituzionalisti. Ci siamo mischiata da capa fino a quando vivevamo senza Covid-19, ora il problema che cos'è? È questo vaccino che ci mettiamo nel nostro organismo, è il Green Pass. Questo non lo condivido assolutamente. Vi consiglio di fare il vaccino perché il nostro corpo umano già è danneggiato irreversibilmente da tutte queste cose che io prima vi ho elencato, droga, sigarette, alcol, sesso senza protezione. Quindi, già abbiamo abusato, per cui io non sono una persona che penserà che con il vaccino ci sarà chissà che cosa. Però è l'unica arma che abbiamo. Concludo questo video dicendo VIVA LA VITA SENZA COVID Grazie per avermi ascoltato e buona serata.